Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Telebari e Radio Bari in apertura alla sanità. Bari diventerà presto uno fra i più importanti poli oncologici d'Italia. Secondo indiscrezioni il presidente della regione Puglia Michele Emiliano sta lavorando su un progetto che renderà l'istituto oncologico di Bari punto di riferimento per tutto il sud. Il progetto prevede l'utilizzo di apparecchiature all'avanguardia e il convolgimento di luminari nel settore della diagnostica e della cura dei tumori. Domani il presidente del consiglio Matteo Renzi e il governatore Michele Emiliano firmeranno il patto per il sud. Che cos'è questo importante accordo interistituzionale? Ce lo spiega Roberto Maggi. 16 patti per il sud, uno per ciascuna delle otto regioni e delle sette città metropolitane a cui aggiungere il CIS di Taranto. Il documento che sarà firmato domani dal governatore Michele Emiliano e dal premier Matteo Renzi altro non è che un accordo interistituzionale che definisce gli investimenti da realizzare nei prossimi anni. Il comitato interministeriale per la programmazione economica ha disposto all'assegnazione delle risorse secondo il riparto dal Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale destinato a quei territori in ritardo rispetto al resto del paese. Di questi 13,4 miliardi che si aggiungono ai fondi POR comunitari alla Puglia andranno 2,75 milioni di euro con 230 milioni del patto per la città metropolitana di Bari già firmato a maggio tra Renzi e Antonio De Caro. Le priorità riguarderanno il ciclo dei rifiuti, il reddito di dignità, i consorsi di bonifica e la rete di trasporto sul ferro. Michele Emiliano ha affermato nei giorni scorsi il patto per il sud non è un regalo è un qualcosa che alla Puglia e al mezzogiorno spetta e che è stato ben organizzato nel lavoro tra il Regione e il Governo e oggi è giunta anche la replica di Matteo Renzi. Noi lavoriamo per la Puglia consapevoli della sua centralità dell'importanza e delle straordinarie potenzialità di questa Regione. E sul capitolo referendum il Premier Renzi si dice ottimista perché finalmente si sta entrando nel merito se vincerà il sì per l'Italia semplicemente inizierà il futuro come voterà la Puglia? Aggiungelo decideranno i pugliesi quanto a Emiliano rispetterò come sempre le sue opinioni. Saranno i baresi a scegliere il nome del ponte dell'As Nord-Sud giorni sul sito del Comune di Bari partirà il sondaggio ce ne parla Serena Russo. Il Comune di Bari lancia ufficialmente il sondaggio per decidere il nome del ponte sull'Asse Nord-Sud che sarà inaugurato domani mattina alla presenza del Premier Matteo Renzi. Il Totonomi partito già da tempo spazia da personaggi legati alla storia della città a date importanti che hanno visto il capologo pugliese come protagonista icone sacre, nomi di noti imprenditori ma anche riferimenti alla baresità riso, patate, cozze e upulp alcuni dei candidati più suffragati ma spetterà ai componenti della commissione appositamente creata procedere ad una prima scrematura delle centinaia di proposte sono loro i chiamati all'arduo compito di comporre la rosa di alternative su cui i baresi dovranno esprimersi presto infatti sarà possibile sul sito del Comune di Bari dire la propria con un semplice click e contribuire alla scelta del nome Sono state tante le richieste di intitolare il ponte che sono arrivate da parte dei cittadini attraverso i giornali, online attraverso le pagine social anche dall'amministrazione comunale anche attraverso dei messaggini privati e quindi abbiamo deciso di mettere insieme i nominativi, le proposte che sono arrivate legate a dei simboli a delle personalità del passato a delle date che hanno un legame storico con la città li metteremo a disposizione di una commissione che valuterà una rosa di nomi questa rosa di nomi sarà poi sottoposta a un sondaggio che sarà fatto sul sito del Comune La soddisfazione legittima per questa nuova grande realtà ingegneristica induce ad una riflessione circa i tempi eccessivi oltre dieci anni con i quali anche quest'opera è stata realizzata e sollecita ancora una volta il mondo delle istituzioni e delle imprese a considerare altrettanto strategica la necessità che le opere pubbliche vengano completate e rese disponibili in tempi brevi lo afferma in una nota il presidente del Consiglio regionale della Puglia Mario Loizzo E cambiamo argomento Parco Mimmo Bucci ancora una volta la mamma del cantante a cui è intitolato il Parco ci contatta per segnalarci la situazione di degrado della struttura a nulla è servita all'installazione da parte dell'amministrazione comunale di alcune telecamere di videosorveglianza Roberto Manci Le saracinesche tristemente abbassate è una porta chiusa a chiave sono quelle del chiosco del giardino Mimmo Bucci al quartiere Libertà il parchetto intitolato al giovane cantante barese è tragicamente scomparso a seguito di un incidente sul lungomare più volte la sua mamma Franca Bucci si è rivolta alla nostra redazione per segnalare la situazione di degrado del parco dagli atti di vandalismo a una giustrina non ancora sostituita allo sguinzagliamento di cani di grossa taglia nelle ore serali mi hanno detto che sarebbe stato affidato ai salesiani ma io non vedo nessuno a nulla sono servite le telecamere recentemente installate dall'amministrazione da quando manca un addetto al servizio di guardia mia la situazione è notevolmente peggiorata l'unica possibilità a questo punto sarebbe l'affidamento a dei privati e in tal senso i salesiani del Redentore si sarebbero resi disponibili le telecamere non servono a nulla lo dissi già all'epoca che vennero a installarle che non sarebbero servite a nulla perché quando avvengono gli atti vandalici bisogna prenderle sul fatto le persone sul punto la signora Bucci è molto chiara se la situazione non cambierà al più presto chiederà la rimozione dell'intitolazione io ribadisco se non intendono far rispettare questo luogo io è meglio che si tolgono le targhe non vedo perché si debba continuare a chiamare giardino Mimobucci se non viene rispettato il luogo passiamo alla cronaca nascondevano nella loro abitazione a Mola di Bari circa 50 kg di sostanze stupefacenti 47 kg di marijuana 800 g di cocaina e mezzo chilo di eroina arrestati dalla polizia su disposizione della direzione investigativa antimafia di Bari due cittadini stranieri un albanese e una rumena 73 anni fa un ragazzo di 15 anni Michele Romito riuscì ad arginare l'avanzata dell'esercito nazista nel porto di Bari questa mattina la città ricordato quel 9 settembre del 1943 con la deposizione di corone d'alloro sul muro del palazzo della Dogana e all'argo Mauro Giovanni sulla muraglia quel gesto è valso la città alla medaglia d'oro al valore civile della resistenza commenta il sindaco De Caro un riconoscimento tardivo che ha cambiato però la nostra percezione dell'importanza che Bari ha avuto nella liberazione del nostro paese dal nazifascismo monotematica al surrischio sismico in aula ad Alfino i gettoni devoluti alle popolazioni colpite dal sisma del 28 agosto ma nonostante l'argomento le frizioni in consiglio comunale non sono mancate sentiamo come benzina sul fuoco è stato l'emendamento del consigliere di area popolare Michele Piccaro di incendiare gli animi della stise cittadina la richiesta era quella di impegnare anche la giunta a devolvere il 5% dell'indennità di agosto alle popolazioni colpite dal sisma nella seduta monotematica ad essi dedicata e il successivo intervento sull'entità delle donazioni di Michele Caradonna consigliere del gruppo misto ha fatto precipitare la situazione perché ritengo che non possa essere il consiglio a chiedere all'aggiunta di fare un atto del genere ma ritengo che debbano essere i singoli assessori se vogliono a poterlo fare perché ovviamente si tratta di una loro indennità e quindi sono loro che devono decidere se poter donare una quota del 5 del 3 o magari anche del 10 immediata la replica dell'assessore Giuseppe Galasso che ha abbandonato per un momento la consueta pacatezza ha risposto così è veramente sconcertante vedere il festival di ipocrisia e soprattutto di rimproveri che vengono mossi ai banchi di questa amministrazione ai singoli componenti della giunta le frizioni tra maggioranza e opposizione hanno quindi caratterizzato anche quello che doveva essere un momento lontano dalla politica di totale condivisione e solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite dal terremoto lo scorso 24 agosto nel centro Italia complice forse anche la tenuta del numero legale sul filo del rasoio per tutta la durata del consiglio l'atteggiamento in aula d'alfino non è stato particolarmente edificante ma il risultato è stato comunque raggiunto il gettone della seduta ieri pomeriggio è stato devoluto in beneficenza e il presidente del consiglio Pasquale Dirella ha annunciato di aver donato il 5% dell'indennità approvati infine gli ordini del giorno dei consiglieri di opposizione Irma Melini e Romeo Ranieri Accogliere i cristiani nelle moschee contro ogni forma di terrorismo è l'obiettivo dell'iniziativa cristiani in moschee lanciata dalla comunità islamica di Puglia domenica prossima dalle 17 alle 20 sarà possibile entrare in moschee e visitarla il presidente della comunità islamica di Puglia Sharif Lorenzini sarà un appuntamento per aprirci ancora una volta al dialogo e alla reciproca convivenza in un clima di pace e profondo rispetto fraterno e ora passiamo allo sport ripartire dagli ultimi 5 minuti di Perugia e il diktat di Roberto Stellone per il suo bar in vista dell'impegno esterno di domani contro il Vicenza non bisogna assolutamente cularsi sul risultato ottenuto sabato scorso dobbiamo continuare a lavorare senza pensare di essere imbattibili e questa era la nostra ultima notizia adesso vi lasciamo alle previsioni del tempo in chiusura vi ricordo il nostro sito internet telebari.it aggiornato in tempo reale grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata amici tra i bimeteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì che a livello europeo sarà ancora molto variabile instabile alle alte latitudini e anche sul mediterraneo centro orientale in effetti anche nel nostro centro sud sarà una giornata nuovamente molto variabile in particolare i fenomeni più diffusi interessano le regioni meridionali al sud atmosfera molto instabile come vi dicevo alta probabilità di acquazzoni rovesci temporali più diffusi intensi nelle regioni peninsulari con questo è tutto per dettagli vi aspetto su trebimeteo.com grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.